In Lizza, la Juventus aveva perso all'andata per 1-0 contro la formazione bulgara del vero Estara Zagora. Ha rimediato subito il gol del pareggio, per così dire, con Sciredo appena 7 minuti. Poi però non è riuscita a concludere per ottenere il secondo gol, quello che l'avrebbe consentito di passare il turno, nei 90 minuti regolamentari. Qui c'è un'azione promossa da Verza, Tardelli e il gol di Causo. Siamo al minuto 103, siamo già nel primo tempo supplementare verso la fine ed ecco l'ultimo gol che l'ha ottenuto da Verza dopo il palo colpito in pieno da Marocchi. Ecco il gol del 3-0 con cui la Juventus è fermata.